I dati di quest'anno mostrano una situazione, dopo anni terribili, prima di crisi e poi di Covid, che dovrebbe individuare una via d'uscita rispetto a un periodo molto difficile. In effetti è così, molti dei consumi culturali riprendono, ma la situazione appare contraddittoria, perché nel frattempo sono cambiate le abitudini delle persone, è cambiato il contesto, quindi abbiamo un paesaggio abbastanza articolato, con alcune forme di fruizione della cultura che aumentano in maniera fortissima, come i concerti live e gli spettacoli all'aperto, altri che fanno più fatica a recuperare le biblioteche, il cinema soprattutto. I musei lentamente recuperano finalmente nel 1923, pare che ci sia una ripresa totale delle fruizioni. Tutto questo comunque individua un paesaggio dove è molto difficile fare una sintesi, anche perché il tutto avviene sulla spinta di una trasformazione tecnologica molto forte che sta cambiando le modalità di condivisione delle persone, sia dal vivo che remoto, sta cambiando le abitudini delle persone. Non è un processo facile, perché le trasformazioni sono molto veloci. Bisogna ripensare probabilmente molti modelli di offerta dei prodotti culturali, perché il Covid ha segnato una frattura con i modelli precedenti e quindi occorre davvero ripensare l'offerta culturale in maniera non novecentesca, ma proiettato in un futuro che stiamo vivendo a gran velocità. Due anni di limiti alla frequentazione dei luoghi pubblici, lockdown e via dicendo, hanno cambiato anche in parte la distribuzione territoriale delle persone, per cui si assiste a un ripopolamento almeno parziale di zone rurali e limitrofe alle città, magari non solo in termini di cambiamento di residenza, ma di un uso diverso della frequenza alla città rispetto allo stare in campagna. Per esempio, uno dei cambiamenti forti è proprio l'interesse per le zone naturali, l'interesse per l'open air. Quindi questo cambia anche le modalità di fruizione della cultura nei luoghi tradizionali. In qualche modo spariglia un po' le condizioni precedenti e un'altra di quelle condizioni di cui bisogna tener conto. Il turismo ha ripreso in maniera molto forte, questo si riverbera anche, quest'anno lo si vede bene sulle fruizioni dei musei, soprattutto il turismo internazionale dà un contributo forte, ma ci sono anche altri fenomeni, per esempio il microturismo delle zone limitrofe che è iniziato durante i periodi di uscita dal lockdown e che continua ad avere un suo ruolo importante. Quindi ci sono molte cose convergenti, si tratta di capire in futuro quale immagine viene fuori, perché in questo momento percepiamo un po' tutti questi elementi e queste contraddittorietà, un po' come nel caso del descritto ad Oliver Sacks, dell'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, cioè vediamo tanti particolari diversi, riconosciamo tante cose diverse, ma ci è molto difficile costruire una sintesi che abbia la figura di un volto. Innanzitutto c'è uno sforzo collettivo da fare per comprendere la situazione, per comprendere quali sono le policy che possono avere un futuro. Di certo continuare sullo stesso binario del pre-pandemia non è una scelta che porta a delle grandi innovazioni e a interpretare il futuro. D'altro canto per immaginare cose nuove occorre che ci sia uno sforzo collettivo di intelligenza, qui partecipano le istituzioni, le università, i centri di ricerca, quindi bisogna mettersi in condizioni di ricerca e non pensare di avere in questo momento soluzioni preconfezionate.